Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fibili in direzione mare per lavori 5 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina, code per traffico intenso in uscita all'Astra Assigna. In direzione Firenze un chilometro di coda per lavori tra Ginestra e Lastra, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, al chilometro 61.2, restringimento di carreggiata per Frana, nel comune di Lastra Assigna. A Firenze in via Micheli per lavori di vieti di sosta e di transito nel tratto via Cherubini-Via Gino Capponi. Puoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!